Continuiamo la nostra terapia della felicità, o meglio per essere più precisi, la terapia per educare i giovani alla felicità, ma attenzione che i giovani quando sono autentici, quando sono forti, quando sono coerenti, anche nelle loro intemperanze, anche nei loro entusiasmi a volte un po' squilibrati, nella loro voglia di vivere, possono essere educatori non di altri giovani, non solo di altri giovani, non solo di adolescenti, ma anche di noi adulti. L'educazione ce l'ha insegnato il sinodo con i giovani, il sinodo voluto da Papa Francesco, veramente un po' boicottato dalla stampa, ma è un buon segno, perché non è detto che quando la stampa si occupa di qualcosa è un segno positivo, molte volte è meglio così, perché i giovani e l'autenticità non hanno bisogno di risonanza mediatica. Dicevo, ce l'ha insegnato e ricordato Papa Francesco con il sinodo, insieme ai giovani, insieme ai vescovi e ai padri sinodali, insieme ad altri giovani collegati attraverso i social network, ci hanno insegnato che la felicità, l'educazione passa attraverso il dialogo tra giovani e anziani. I giovani non sono solo fruitori, ma sono anche attori, protagonisti della vita. I giovani non sono dei contenitori, delle teste vuote da riempire assolutamente. E gli anziani non sono delle persone ormai superate che non hanno nulla da dire ai giovani stessi, no, il dialogo. Franco e sincero tra giovani e anziani, tra persone adulte e gioventù, è il futuro dell'umanità ed è il futuro della felicità. E continuiamo proprio facendo riferimento alla terapia per educare i giovani alla felicità di un grande educatore, come ho avuto modo già di dire, Donoreste Benzi, il quale ha sempre parlato, ha sempre affiancato, si è fatto sempre compagno di viaggio dei giovani e non dei giovani facili, molte volte giovani difficili, giovani schiavi della droga o delle droghe, giovani schiavi della prostituzione, di giovani schiavi della mancanza d'amore. Dopo la terapia della verità, la terapia della responsabilità, la terapia della conquista e del sacrificio, oggi vediamo la terapia del dono di sé. Del dono di sé a chi? A chi ha bisogno? Don Benzi dice che il liberarsi da sé stessi attraverso l'amore fa scoprire gli altri. Quindi, educare i giovani, ma anche gli adulti, fatemelo dire, al dono di sé, vuol dire educarli ad amare gli altri e amando gli altri, amano se stessi e amando gli altri e amando se stessi sono felici. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!